Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e dato che oggi è lunedì benvenuti ad un nuovo format infatti oggi parte un nuovo format come avrete visto anche dal titolo oggi parte la sezione dei rompicapi visto che ultimamente ho comprato un 2-3 rompicapi che mi sono davvero piaciuti e li sono riusciti a risolvere per fortuna vi li voglio risolvere e portare anche qua sul canale visto che questa serie piace anche su tantissimi altri canali la voglio portare anch'io e cercare di farvelo piacere anche a voi anche perché penso che possa essere una sezione molto carina e molto interessante oggi si parte dal nodo del diavolo bene partiamo subito allora ho anche preso il mio tablet perché voglio vedere quanto ci metto l'ho visto fare anche in altri canali proprio col cronometro che parte quindi vediamo un attimo prima lo smontiamo 3 2 1 via questo si toglie così ok ho smontato quindi praticamente partiamo dai 15 secondi 3 2 1 via io l'ho già risolto però non mi ricordo più come si fa quindi mi sa che si partiva da questi due tipo una cosa del genere tipo no ok questo mi sono quasi sicuro che andava così però non so da che parte bisognava tenerlo mi sa così ok questo verso l'interno esatto questo no questo così no ah no questo andava esatto per tenerlo questo andava così no così e questo infilato dentro per bloccare il tutto beh diciamo che sono partito da mi pare da un minuto e 15 vero oppure proprio da 15 secondi forse da 15 secondi dopo riguarderò eh sì diciamo che boh l'avevo anche già risolto quindi alla fin fine sta tutto nel togliere questo pezzetto qui perché se io tolgo questo pezzo qua si smonta tutto si toglie questo e infine anche tutto il resto questo qua è il pezzo che va ad incastrare tutti i pezzi sì è molto molle è molto molle questo qui non pensate male è molto molle io tolgo questo e viene via tutto infatti se io lo lascio così sulla credenza come ce l'ho questo casca infatti lo devo mettere abbastanza così da questo rato qua o in piedi così oppure buttato sotto così in modo che il bastone non esca diciamo che ecco infatti vabbè mi toccherà rifarlo questo era il rompicapo bene questo era il primo rompicapo della serie perché sì ve ne porterò altri anche più belli uno dopo l'altro e sì oggi abbiamo risolto questo bellissimo nodo del diavolo spero che vi sia piaciuto io vi saluto e vi mando un bacio e noi ci vediamo ad un prossimo video mi raccomando iscrivetevi in tanti e ci si vede all'interno del canale ciao ragazzi ciao